E' soldi in promozione a domicilio per il Granata contro i Bellari Giamarina, già affrontato nel turno di Coppa Italia, ma la vera festa Granata risale a sette giorni prima, quando al debutto in categoria la vittoria esterna ha regalato i primi tre punti stagione alla formazione del presidente Cantoni, che ha un doppio motivo per il quale sorridere. Dopo il derby vinto dal suo Milan, la sua creatura muove a piccoli passi la gradatoria. Il Bellari Giamarina invece è uscito sconfitta di misura nella sfida con San Termete e tenta l'esploat di Coppa. Viene fuori una gara equilibrata, con l'immagine a cura di Giacomo Alpini vediamo la prima incursione di Fellini, correlativa parata del portiere Berardi. Il collega Venghi è costretto dall'altra parte a rifugiarsi in corner su questa velenosa punizione di Tebaldi. Da una rimessa laterale è Marchini insidiare la porta difesa dall'ex numero uno del Sant'Arcangelo, che si distende in tuffo, evitando pericoli maggiori. Il Granata tuttavia replica con questa mischia in area di rigore, con il pallone salvato dinanzi alla porta difesa da Berardi. L'ex di turno Mastria invece, in contropiede anziché tirare, risulta generoso cercando il passaggio finale per i compagni, con pronta ribattuta dalla difesa bellariese. Gli ospiti a questo punto cercano la via del gol, Facondini nella distanza impegna i due tempi l'attento Venghi. Prima della mezz'ora c'è tempo per questa punizione di Venturi terminata alta. Gli spazi sono pochi, la soluzione della distanza arriva a rendere protagonista anche Braccini, la cui conclusione viene neutralizzata da Berardi. Al 36esimo viene annullato questo gol ai padori di casa per fuorigioco, dopo un'azione partita da Fellini. L'arbitro fa segno di aver visto tutto. Nella ripresa gli ospiti partono forte, ma la mira di Facondini è da registrare. Ma in una partita equilibrata, quando vengono concessi spazi, ecco che i granatini si divertono come. Il traversore di Pellegrini per il colpo di testa di Mastria è un invito a nozze. Peccato per il numero 8 che non riesce a mirare il bersaglio. La dinamicità di Pellegrini produce questo tentativo da fuori aria, fuori misura. I padori di casa tentano la via del gol anche su punizione. Viene smistrati infatti su piedi della corrente Zavalloni il pallone, ma il centrocampista alza la mira. Quando arriva la precisione ad opera di Fellini, manca la forza nell'atto finale. Berardi si fa trovare pronto, ma è spettacolare l'azione realizzata dal duo Boni-Pellegrini poco dopo. Un tiro di quest'ultimo bloccato da Berardi. Il bellare di Giammaria, dall'altra parte, vorrebbe rigore per un presciunto fallo su Chiusi, ma anche in questo caso l'arbitro fa segno di aver visto tutto. Dalla punizione di Boni nasce questo tentativo che porta a tiro finale di Pellegrini. Berardi si distende a terra, come del resto Venghi, che neutralizza la conclusione di Chiusi. Su fine di gara, solo esterno della rete per Vitali. Una partita equilibrata, con maggiore occasione da gol per il Granata nei secondi 45 minuti di gioco. Il bellare di Giammaria, invece, ottiene il suo primo punto in stagione.